Il pomeriggio in cui Schifano muore a Roma, la comunità internazionale degli artisti, nazionale, romana, la scuola romana di cui aveva fatto parte, ma in tutto il mondo, si chiedono ma come Mario Schifano non era già morto. Se lo chiedono perché Mario Schifano in effetti è morto tante volte, o forse non è mai morto, comunque sicuramente la sua arte non è mai morta e non morirà mai. Si chiedevano questo perché Mario Schifano ha avuto una vita caratterizzata da storie di droga, è stato sei volte in carcere, è stato ricoverato addirittura in manicomio criminale, è stato tante volte in clinica per disintossicarsi, tante volte sul punto di morire ha avuto delle paralisi, delle malattie appunto legate a questo stile di vita. Però nel frattempo Mario Schifano è stato un artista, un genio dell'arte contemporanea, è stato un artista eclettico, geniale, un artista che dipingeva con le mani e con la testa, lui diceva le idee sono contemporanee al gesto, le sputo subito sul quadro. E così ci ha regalato dei quadri immortali che sono nell'immaginario di tutti noi e nell'ultimo periodo si è dedicato anche lui alla televisione. Voi chiederete ma la televisione nel senso dell'elettrodomestico è esattamente quello. Lui amava con la sua Polaroid che portava sempre dietro con lui, amava immortalare le scene che vedeva in tv, da film come Il Petoma di Diego Tognazzi fino a trasmissioni di varietà della RAI e poi su quelle immagini dipingeva, regalandoci anche negli ultimi anni della sua vita, anche in questa serie di quadri, delle opere d'arte di incredibile modernità e contemporaneità. Il Petoma di Davide